Feste e furti, un binomio non certo rassicurante che però serve a mettere in allarme i cittadini e le forze dell'ordine. Sì perché tutti sanno che non è proprio il momento di abbassare la guardia, soprattutto quando si avvicinano le festività natalizie e le abitazioni restano spesso incustodite. I recenti furzi che si sono visti a macchia di leopardo su tutta la provincia eblea, negozi, aziende, case e addirittura municipi, hanno messo sul chivalà le forze dell'ordine. Il consiglio è quello di non far sapere a nessuno i propri progetti per le vacanze, insomma di non dire su social network quale le date delle proprie ferie. I ladri infatti controllano anche Facebook. Se sentono di una famiglia in partenza potrebbero far visita alle loro abitazioni incustodite. Non ci sarebbe da stupirsi, sono tutti casi già accaduti anche a Ragusa. Inoltre sia a Modica che a Ragusa e a Vittoria, nelle ultime settimane, si è visto un picco proprio per quanto riguarda i furti in abitazioni. L'ultimo mercoledì a Vittoria e danni di una signora di 63 anni. I vigili urbani inoltre consigliano di fare affidamento sul vigile di quartiere, iniziativa già partita due settimane fa e che sta apportando ottimi risultati. Il comandante dei vigili urbani di Ragusa, Rosario Spata, lancia un appello affinché i cittadini segnalino alle forze dell'ordine, in particolare ai vigili di quartiere, tutto ciò che possa insospettire. Precisamente il servizio del vigile di quartiere è partito 15 giorni fa a Ragusa e fino a oggi è servito a raccogliere segnalazioni di tutti i tipi, dalle discariche abusive alle famiglie di extracomunitari che vivono in appartamenti ritenuti abbandonati. I vigili di quartiere inoltre controlleranno anche le abitazioni rimaste incustodite e pattuglieranno le zone più a rischio, soprattutto nei giorni a ridosso delle festività natalizie. L'allarme comunque resta molto alto ed è proprio il comandante Spata a suggerire ai cittadini di non abbassare la guardia.